Pronto? Ui, ciao, come stai? Sì Ferdinando, sì, è un amico mio Un caro collega, perché? Chi è? Sì No, è una persona a posto, è una persona mia, tranquillo Ma chi è? Non fai di queste cose Perché? Ma come ti permetti? No, no, non è fesso Ma come ti permetti? Ma quello... Come chi è? No Sì, sì Davvero? Ma che schifo Davvero? Eh sì, è bello Cretino Ma chi? No, 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 sono solo, sono solo Sì, sì, dì, dì Mi dispiace, come si dice, la mamma dei cretini è sempre incinta Vabbè, ti saluto Ciao, un bacio Ciao, ciao Saluto a Gloria Vengo a prenderci alle cinque e mezza Non parli aspettare Dona compagno E poi Dole